Questo è un breve video per farvi vedere il mio nuovo Rode VideoMic Pro Io ho anche il Rode, quello lungodirezionale, più lungo Ma questo praticamente ha di Fico, che è della stessa qualità Se non chiaramente migliore, perché è più caro, è l'ultima versione E ha delle cose in più che puoi attenuare o amplificare il suono Secondo che sei troppo vicino o troppo lontano dalla fonte sonora E poi soprattutto è più piccolo, è più leggero e quindi è più adatto a stare sopra una reflex Quindi ho anche il Rode, quello stereo, però io avendoci entrambi So che il direzionale è la cosa più adatta per il 90% delle situazioni Tranne che per alcuni casi particolari, magari dove si registra musica Però nell'attività dello YouTuber normale il microfono che ci vuole è questo Nel 99% dei casi Quello stereo serve in alcune cose particolari Io ce l'ho e quando lo uso non è che l'audio è buono Ma è meglio il monodirezionale piuttosto che lo stereo E quindi ragazzi, se volete vedere la qualità dell'audio Adesso io farò un video dove promuovo il mio nuovo account Pinterest E quindi lo registrerò con il mio nuovo Rode e questa Canon 70D Ho anche la Canon 5D, però vi devo dire che per lo YouTuber nel 90% dei casi è più comoda la Canon 70D Che costa di meno? Infatti io ce l'ho entrambi Però c'è di comodo, rimanendo pure una qualità elevatissima per i video C'è di comodo lo schermo retraibile E per i video c'è di comodo anche il fatto che c'è l'autofocus silenziosissimo Quindi per un giovane YouTuber potrebbe risparmiare Se non deve andare sul cinema con la 70D E avere una maggior facilità di utilizzo Poi se vogliamo vedere qua sotto, sto monopiede è molto carino E anche questo io ho fatto la recensione in passato Va bene, se vi va mettete quello che vi pare Ok? Se vi va